La curva del contagio è ancora in fase di crescita per il quinto giorno consecutivo. I numeri quotidiani dicono che c'è un netto peggioramento sotto praticamente tutti i punti di vista a partire proprio dai casi accertati di Covid-19 nelle ultime 24 ore e che sfiorano i 40.000 positivi. Un nuovo record ha raggiunto nel giorno in cui diminuisce il numero degli esami effettuati 231.673 tamponi, 2.500 in meno di ieri. La conseguenza è la crescita della percentuale tra positivi e tamponi processati che sale al 17%, un punto in più di ieri. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi che rimane comunque drammaticamente alto, 425 morti oggi, 18 in meno di ieri, mentre continua a crescere la pressione sugli ospedali. 1.100 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore, 119 i nuovi pazienti in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.634 persone, ancora molto alti il numero dei positivi in Lombardia, Veneto, Piemonte, Campania e Toscana. Con numeri così alti torno alla paura per le RSA, le residenze per anziani vittime, per dirla, con le parole di Ranieri Guerra, direttore vicario dell'OMS, di un massacro nella prima ondata della pandemia nel nostro paese. A Foggia, positivi tutti e 74 i pazienti ai 28 operatori della residenza Socio Sanitaria Fondazione Palena, mentre nella Fondazione Maria Grazia Barone ci sono 22 positivi tra i pazienti e 8 tra gli infermieri. Già 3 i morti a causa del coronavirus. 13 casi sono stati invece scoperti in una casa famiglia di Torra Annunziata nel Napoletano. Anche per limitare casi come questi è stato varato il nuovo DPCM, alcuni aspetti sono stati chiariti oggi dal Viminale attraverso una circolare inviata ai prefetti in cui si ribadisce che c'è la possibilità per tutte le aree considerate a rischio e assembramento di chiudere vie e piazze anche prima delle 21. Chiusi gli spogliatoi dei circoli sportivi rimasti aperti nelle aree gialle per chi viola le regole multe dai 400 ai 1000 euro. Il governo inoltre chiarisce che saranno chiusi in tutte le tali e tradizionali mercatini di Natale che è permesso ma fortemente sconsigliato portare i nipoti dai nonni se non in caso di estrema necessità.